Grazie a tutti Il primo riscontro che è 50 secondi per l'Alfa 33 Michele ti puoi accodare anche tu, vieni Pronto? Vado? Aspetta che finiscono il giro i tre Ricordiamo che quando completate il giro L'Alfa 33 è un minuto in segno Come sta andando? Sta andando un po' lento Vai 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 sei ancora lento Vai sei lento ancora Sei lento Vai sei lento sei lento sei lento Troppo indietro Possibile 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 Cosa dice che sei indietro? Ma lo so io perché sta dicendo che sei indietro Perché qua dice ci sono pochi satelliti E quindi direi che sta Vabbè sentitela come vuoi E ma non è colpa mia se non prende E ora come sto? Sta indietro perché pensa che sta a 30 C'è scritto 21 Un'ultima 7 Vai 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 Ma dov'è stanno inestrati Un'ultima 7 Un'ultima 7 Un'ultima 7 Un'ultima 7 7 Un'ultima 7 5 4 3 2 1 0 Comunque l'hai fatta bene Il fatto è che l'altro pensava che te Vabbè siamo entrati Siamo entrati Siamo entrati Hai fatto benissimo È tutto benissimo